Grazie a tutti Sento il toro della campana che annuncia a loro l'avvio del tiro a scambio del quale sarà parte di tutti i punti da parte del giudicato Sarà cambiata il comando di Presidente del Black in questo momento ma vi attendiamo al primo passaggio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti